Naturalmente, in fascia di gioco, con i colori della cittadina, rosso e blu. Bene, ci riguarda un progetto molto semplice, molto sentita. Io ti ringrazio già, ti ringrazio il signor sindaco per questa giornata così particolare. Io ti ringrazio la famiglia, perché ti busca la vicinanza alla vostra pietra. Quindi, in questa giornata è tutta tua, tutta vostra. E grazie per quello che hai fatto, grazie per quello che farai. Grazie. Grazie.